Ciao Lucia, scusate la voce, ho un'infiammazione alla gola e quindi ho la voce un po' in cantina. Come promesso, volevo farvi vedere il mio metodo per fare le diminuzioni su una manica a punto granny. In realtà vale come diminuzione sul granny in generale, però diciamo che la manica, essendo una cosa che va stretta gradualmente ed essendo una cosa che ha un certo numero di giri nel quale fare delle diminuzioni e non volendo vedere grossi scalini, a detta vostra di molti, è la cosa più difficile da restringere. E quindi ho sperimentato questo mio metodo dove vedete che stringe veramente gradualmente senza dare antiestetici scalini. Vedete come fa questa curva, curva proprio la manica come qualsiasi altra manica, ma non ha l'effetto proprio restringimento immediato. Cioè è proprio una cosa molto graduale. E quindi ho deciso di farvi vedere qual è il mio metodo. Ce ne sono altri assolutamente validi. Io ho sperimentato questo proprio su questo cardigan da bimba, quindi la manica è corta, cioè corta in proporzione ad un cardigan bimba, ma è assolutamente adattabile a qualsiasi misura, anche perché è vero che è corta la manica bimba, però parte con un certo numero di maglie che già è inferiore alla manica di un adulto. Quindi ovviamente si può usare lo stesso medesimo procedimento, perché ovviamente avendo più maglie iniziali sarà più lungo il procedimento per stringere, e quindi verrà, tra virgolette, diluito, spalmato sull'intera manica. Io in questo caso ho tenuto una parte dritta, perché avevo fatto più aumenti in partenza. In realtà, con il mio procedimento, si potrebbe anche ad arrivare a stringere proprio tutta la manica nello stesso modo, quindi magari non avere poi una parte dritta. Io, siccome questo era un po' un esperimento, era la prima volta che usavo questo procedimento, quindi l'ho provato io per la prima volta, non pensando che la manica potesse essere più corta e quindi per avere un maggior restringimento, sono partita con più diminuzioni all'inizio. Però, se partite come vi faccio vedere adesso, quindi col metodo corretto, teoricamente potreste anche arrivare a stringere gradualmente l'intera manica, quindi senza avere poi un pezzettino dritto. Se invece la volete così, potete effettuare qualche aumento in più alla base della manica. Bene, ora vi avvierò una catenella sul quale farò un punto granny e insieme vi farò vedere come diminuire. Ecco qui, ho fatto proprio una cosa piccolissima e ho fatto due giri. Ora, si procede in questo modo. Invece di fare e effettuare le diminuzioni come le abbiamo sempre viste, quindi andare a togliere prima le catenelle e poi eventualmente una maglia da ogni blocco da tre, e poi successivamente, se necessario, un ulteriore ristringimento della manica, andare a diminuire l'uncinetto, procediamo in questo modo. Quindi, facciamo le tre catenelle per partire, giriamo il lavoro, io giro sempre il lavoro quando faccio il granny, sempre, perché sennò il granny storta. E andiamo a fare, quindi la prima maglia alta è già fatta con le tre catenelle iniziali, procediamo con la seconda e la terza maglia alta. Cosa facciamo? Andiamo a togliere uno, una catenella, quindi in uno spazio, aspettate perché mi sembra che non sia messo a fuoco benissimo, vediamo, ok. Andiamo a togliere una catenella, ma non da tutti i blocchi, solo qua, quindi senza fare catenelle, entriamo nel secondo spazio e andiamo a fare il secondo blocco da tre. Ecco qua, una, due e tre. Per tutto il resto delle maglie, noi procediamo nel medesimo modo, fatto per il punto granny, quindi catenella, entriamo nel prossimo spazio e facciamo il nostro blocco da tre. Scusate ancora per la voce, ma tornerà. Al prossimo, quindi catenella, prossimo, blocco da tre. Uno, due, tre. Catenella, ho fatto un campioncino piccolo proprio per poterlo fare insieme a voi totalmente, senza pause, senza grossi problemi. Quindi blocco da tre, catenella, di nuovo blocco da tre. Così. Catenella e andiamo a chiudere normalmente nella terza catenella d'inizio. Eccoci qua. Uno, due e tre. Così. Facciamo le nostre tre catenelle per fare la prima maglia alta, rivoltiamo il lavoro, facciamo le nostre, quindi, altre due maglie alte all'interno dello spazio per creare il punto grenni. Come fatto prima, saltiamo la catenella. Ma in questo giro non saltiamo solo la catenella dopo questo blocco, ma ne dobbiamo togliere due. Quindi, entriamo nel prossimo blocco senza la catenella di separazione tra un blocco e l'altro. Facciamo le nostre tre maglie alte. Uno, due, tre. Dovendone eliminare due, entriamo anche nel prossimo blocco senza catenella di separazione tra un blocco e l'altro. Due, e tre. Quindi, ne abbiamo tolte due. Adesso possiamo continuare normalmente col grenni. quindi, catenella, prossimo blocco da tre. Catenella, prossimo blocco da tre. Catenella, prossimo blocco da tre. quindi, una, due, tre. Catenella, e ci uniamo alla terza maglia d'inizio. Cioè, la terza catenella, scusate. Tre catenelle, voltiamo il lavoro. Ecco qui. andiamo a rifare le nostre maglie, quindi altre due, maglie alte. A questo giro dobbiamo saltare tre catenelle. Quindi, entriamo nel prossimo senza catenella, e ne abbiamo tolta una. Nel prossimo, senza catenella, e ne abbiamo tolte due. Nel prossimo, senza catenella, e ne abbiamo tolte tre. Quindi, una, dovevamo toglierne tre nel terzo giro. Noi calcoliamo proprio primo giro una catenella, secondo giro due catenelle, terzo giro tre catenelle. Se vi è più comodo, potete usare o un contagiri, oppure, vabbè, le contate, oppure segnarvi su un foglio quante ne avete già tolte. Ammesso comunque che si vede dove non c'è la catenella, perché effettivamente potreste anche contarle poi, perché si vede, rimane più stretto il buco. Ne abbiamo tolte tre. Normalmente, ricominciamo a fare le catenelle nelle restanti, nella restante lavorazione. E quindi, andiamo a fare il nostro granny normalmente con le catenelle. Ecco qui, siamo arrivati all'ultimo, all'ultimo blocco. Catenella e ci congiungiamo con la terza catenella di inizio. Ecco qua. Ok. Tre catenelle. Voltiamo. Andiamo a fare le altre due nello spazio. Così. Quindi, quarto giro, quattro catenelle da saltare. da saltare, scusate. Quattro catenelle da saltare. Una la saltiamo subito passando nel secondo blocco. La seconda la saltiamo adesso passando direttamente nel prossimo, quindi foro, granny, a fare le nostre tre maglie. La terza la saltiamo ancora facendo nessuna catenella. E adesso, essendo al quarto giro, ne dobbiamo saltare un'altra, quindi non la facciamo ed entriamo nel prossimo foro. Due e tre. Quindi ne abbiamo saltate, vedete? una, due, tre e quattro. Ricominciamo a fare la catenella. Siamo quasi arrivati, quindi tra un po'. Quindi ce ne mancano praticamente due da togliere. Catenella, terza maglia d'inizio, sempre terza catenella. Io mi confondo, dico maglia, ma è la catenella, non è la maglia. Quindi tre catenelle, voltiamo il lavoro, l'ho volto così perché è piccolo e si fa un po' fatica. Normalmente non l'ho volto, se la manica è molto larga si riesce a lavorare bene anche senza voltare ogni volta il lavoro. Quindi andiamo a fare le due maglie senza catenella, quindi dobbiamo togliere cinque a questo giro, quindi quinto giro, cinque catenelle. una, due, scusate ma il campione è stretto, quindi vado a incastrarmi dietro, aspettate, tento di tenerlo sotto senza incastrare, quindi eravamo a tre, giusto? Contiamo, una, due, tre, quindi saltiamo la quarta, saltiamo la quinta, quindi non facciamo lo spazio e la sesta la facciamo perché noi non dobbiamo diminuirla la sesta, siamo al quinto giro, dobbiamo diminuire sei catenelle, quindi ecco qui, ne facciamo una. Vedete che sta stringendo? Vedete com'era larga e com'è stretta adesso? Ora andiamo a togliere l'ultima catenella quindi di nuovo tre catenelle a questo punto non dobbiamo più contare perché ovviamente sappiamo che dobbiamo togliere l'ultima quindi andiamo a fare il nostro lavoro granny senza catenelle di separazione quindi vedete entriamo nel primo secondo foro con le tre maglie alte senza catenelle di separazione quindi lavoreremo tutto il giro senza catenelle di separazione vedete ci siamo arrivati gradualmente senza diminuire di botto e quindi non avremo uno scalino perché se noi pensiamo che partiamo magari con 50-60 maglie per lo scalfo manica e quindi la nostra manica parte con una serie di blocchi granny che potrebbero essere una ventina noi andiamo a togliere 20 catenelle tutte insieme è certo che quelle 20 catenelle tolte tutte insieme si vedono perché sono tante da togliere tutte insieme ma se noi ne togliamo una alla volta adesso io vi faccio vedere proprio al termine di questo lavoro andiamo nella terza di inizio voi non vedrete scalini vedrete una maglia che diminuisce gradualmente vedete sta diminuendo gradualmente ora cosa dobbiamo fare noi facciamo dobbiamo andare avanti con gli aumenti noi teniamo conto che questa sia una manica da adulto fatta con le giuste maglie adesso non dobbiamo fare altro che lo stesso procedimento ma con le maglie quindi toglieremo adesso faremo solo due maglie senza catenelle entriamo nel prossimo e ne facciamo tre entriamo nel prossimo e ne facciamo tre uno due tre entriamo nel prossimo e ne facciamo tre sta iniziando a diventare stretto faccio fatica a lavorarlo ho scelto una base un po' troppo stretta due tre scusate mi sposto vado veloce perché comunque è un breve tutorial per farvi vedere il procedimento ma in realtà non non necessita di una non necessita che io vada piano anche perché ve lo sto spiegando mentre lo faccio e quindi e quindi in questo no mi unisco perché qua ho allargato la maglia ecco qui quindi siamo già arrivati ecco qua saliamo con le tre catenelle quindi andiamo avanti a fare giriamo il lavoro nel primo blocco ne facciamo due andiamo al prossimo blocco e faremo ancora due maglie alte invece di tre e sono due diminuzioni in questo giro quindi le altre le faccio normalmente blocchi da tre quindi come abbiamo fatto per gli spazi ad ogni giro toglieremo una sola maglia da un solo blocco non una maglia da ogni blocco perché se noi andiamo a togliere una maglia da ogni blocco sempre ipoteticamente partendo con dodici blocchi dovremo andare a togliere dodici maglie tutte insieme creando un altro gradino che secondo me si vede quindi andiamo a fare questo lavoro dopodiché io mi fermo ragazze perché sono talmente stretta che faccio fatica a lavorare adesso vedete noi siamo vediamo se riesco a schiarire in un attimo scusate perché è un po' ecco qua era un po' scura la vedete non c'è nessunissimo scalino e la lavorazione risulta comunque bella vedete è comunque una bella lavorazione non andiamo a intaccare quella che è la lavorazione andiamo soltanto a diminuire talmente gradualmente che non abbiamo nessun ah e oltretutto girando la maglia la riga è dritta quindi avremo una riga dritta e vedete è veramente molto bella non ho gradini ho diminuito gradualmente ora io mi sono fermata perché ovviamente avendo fatto un campione molto piccolo diventa difficoltoso poi proseguire perché vado addirittura a chiudere però considerando che partiamo da una dimensione molto più ampia noi potremmo anche veramente arrivare al polsino gradualmente se poi non ci arriviamo possiamo optare per cambiare l'uncinetto ma in quel caso avremo comunque un restringimento drastico perché andiamo a togliere comunque mezzo punto o un punto quindi di uncinetto e sarà comunque drastico ma in questo modo non abbiamo creato scalini vedete la manica stringe gradualmente ed è veramente molto bella da vedere io vi faccio rivedere questa che è un lavoro che poi faremo insieme vedete io qua probabilmente ero convinta di aver girato il lavoro ma non l'ho girato vedete la riga che gira invece se a ogni giro girate il lavoro lo faccio sempre non so per quale motivo qua non l'ho fatto se girate anche la riga questa riga che è la congiunzione è dritta e anche sulla piastrella mi raccomando per fare venire le piastrelle granny dritte girate sempre il lavoro ad ogni giro perché se no gli angoli stortano praticamente gli angoli iniziano a girare nel senso di rotazione quindi vi consiglio di girare sempre il lavoro anche in quel caso bene io avendovi svelato questo mio metodo per restringere la manica vi saluto vi do appuntamento sul mio gruppo facebook creando con luci e franci spero di essere stata d'aiuto a tutte le amiche che spesso sul mio gruppo mi chiedevano appunto come stringere una manica granny ripeto ci sono molti metodi per stringerla questo l'ho provato io personalmente e mi piace moltissimo perché vedete è veramente graduale la cosa e non dà nessunissimo problema al disegno diciamo al punto non dà nessunissimo problema ed è veramente molto bello da vedere quindi scende molto bene graduale la cosa non ci sono scalini non ci sono diminuzioni repentine l'ultima cosa che volevo dirvi è se optate per stringere una manica corta o una manica a tre quarti potete valutare di invece di diminuire una catenella alla volta o una maglia alla volta magari fare ogni giro due diminuzioni o tre dipende se volete la manica corta o la manica a tre quarti quindi valutate un po' voi però non togliendole comunque tutte insieme né catenelle né maglie alte vedete che comunque il risultato è molto molto bello io vi saluto spero che questo tutorial vi sia stato utile vi mando un grosso bacio un saluto e al prossimo tutorial ciao ciao da lucia